Abbiamo tratto la colonna sonora di un film che sta avendo un grande successo con il manuale dell'amore, no? Esatto, sì. E il fratto di chi è la canzone? La canzone del compositore che è tutta la colonna sonora, che è Paolo Gondino. E' stato in commissione con noi per quanto riguarda i campioni. Sì, mi ha detto di salutarti molto, che mi dispiace di non essere qui, mi sarebbe piaciuto l'alto, se sei già impiegato nella sua prossima colonna sonora. Allora, ci fai ascoltare? Certo, assolutamente. Il titolo? Eppure sentire un senso di tempo. Grazie mille. Eccomi. A un passo dal possibile, 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 a un passo dal possibile quello che non ho, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli su parte a te, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli su parte a te, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli su parte a te, eppure sentire sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli su parte a te, eppure sentire nei s buckets di sentire ai cieli su parte a te laBE, spure sentire que il Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto e nei cieli su, alto e te. Eppure sentire nei giorni, porto a un pianto e nei giorni su, neanche a te. Eppure sentire nei giorni su, alto e nei cieli su. Eppure sentire nei giorni su, alto e nei cieli su. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che belli tutti questi brindi, bravissimi. Che bella immagine, Lisa. Eh, sono loro. Eh, sì. Ma guarda, Pippo è così rigido perché in realtà ha una grande sorpresa per te. Si vede? Un pochino di te. Io ho il piacere e l'onore di consegnare a questa bellissima e bravissima cantante il disco di Diamante. Non di Platino, Diamante. 200 mila coppie vendute del tuo ultimo risco, il tuo ultimo sinistro. Grazie mille, grazie mille, bravissimi. Ciao, 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 ciao. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.